gentili telespettatori buona giornata e la schline va a bologna a dire che la città non merita le manifestazioni di destra a siamo alle solite lei è il capo di un partito che nel nome dice democratico partito democratico io cancellerei democratico lascerei partito lei è il capo del partito quale si chiama partito allora se viene fatta una manifestazione con tutti i permessi della questura significa che quella manifestazione è assolutamente legittima ma la fa qualcuno che non ti piace che dice cose che tu non gradisci allora dici che bologna non merita una manifestazione di persone che dicono cose non gradite alla sinistra capite che c'è molto poco di democratico in quello che dice la capa elena che si fa chiamare inspiegabilmente elli va in piazza al presidio dell'associazione nazionale partigiani italiani 500 persone in segno di protesta verso il corteo di rete dei patrioti e casa pound e la presidente cocchi esprime dispiacere e dispiaciuta che ci sia la democrazia e possano manifestare persone che la pensano diversamente da lei lei è dispiaciuta che ci sia la democrazia la grande capa del partito che si definisce democratico dice impossibile pensare da bolognese che sia stata una scelta giusta far manifestare le destre estreme a pochi passi dalla stazione a ma cosa c'entra la stazione perché se c'è una manifestazione di destra che passa vicino alla stazione cosa fa la stazione si contagia prende un virus la stazione e la stazione diventa improvvisamente di destra quindi a pochi passi dalla stazione non vuol dire assolutamente nulla elena elena elli ti fai chiamare elli no poi un giorno magari ci spiegherai perché elli senti elli che mi sembra tanto lelli kelly le tue scarpine con lelli kelly senti lelli shelly salli come cavolo lelli salli shelly elli ogni tanto e quindi senti elli cosa c'entra che è una manifestazione a pochi passi dalla stazione che vuol dire nulla chiaramente non vuol dire nulla allora bologna 9 novembre 2024 la giornata delle manifestazioni parte con un presidio alle 11 e 30 in piazza del del nettuno promosso dai partigiani in segno di protesta verso il corteo di rete dei patrioti casa pound alle 14 a quindi lampi scende in piazza per protestare che altri che non la pensano come loro scendono in piazza ma questa è una grande democrazia sono pensieri davvero democratici io vado a protestare perché c'è una manifestazione legale di persone che non la pensano come me quindi vado a protestare esprimendo la mia il mio concetto che io posso manifestare ma loro no e questa è una grande senso di democrazia grandissimo va bene a questo punto tra le bandiere dell'ampi era presente tra una bandiera e l'altra c'era elena detta elli segretaria nazionale del partito che si definisce a tratti democratico e dice così lelli necessario ribadire i valori della nostra costituzione perché libertà giustizia sociale solidarietà bologna non merita le manifestazioni della destra estrema che si abbatte sempre sulle persone più fragili e scusate ma queste sono frasi alla viva al parroco buttate lì senza senso allora sentite qua la manifestazione della destra si abbatte sulle persone più fragili questa è una frase che non ha nessun senso completamente ricordo a lelli kelly che le organizzazioni di destra diverse organizzazioni di destra spesso sono le uniche che portano delle dispense dei sacchetti con cose da mangiare direttamente alle famiglie bisognose nelle periferie di roma come ad ostia ci sono delle organizzazioni di destra che proprio nelle periferie aiutano le persone che hanno bisogno persone a cui è stata occupata la casa persone che non hanno da mangiare gli danno dei sacchetti con la spesa quindi dire che le manifestazioni di destra si abbattono sempre sulle persone più fragili è una sciocchezza completamente senza senso adesso io non lo so non lo so ma non credo che ci siano organizzazioni di estrema sinistra che vadano ad aiutare nelle periferie le persone più deboli già bisognerebbe aiutare quelli dei centri sociali figuratevi non credo quindi una sinistra che è molto lontana dalla gente ormai vive nei palazzi del potere dire che una manifestazione a bologna di destra si abbatte sulle persone più fragili è una sciocchezza inaudita ma torniamo indietro elena dice necessario ribadire i valori della nostra costituzione quindi c'è una manifestazione legittima col permesso della questura della destra bologna e lei elena va a bologna perché è necessario ribadire i valori della costituzione ma che cosa c'entra perché una manifestazione di destra e contro la costituzione ma chi l'ha detto e quindi lei dice libertà giustizia sociale e solidarietà quindi secondo elena che va a bologna lei contrasta e cerca di contrastare una legittima manifestazione democratica perché deve difendere la libertà perché una manifestazione di destra è contro la libertà giustizia sociale perché la destra è contro la giustizia sociale solidarietà perché la destra è contro la solidarietà come vi dicevo prima nelle periferie di roma è la destra che va ad aiutare i più bisognosi quindi che caspita vale a dire parole così avanvera alla viva al parroco vabbè insomma bella la politica così no vai in piazza a raccontare le storie di babbo natale arrivederci a tutti un saluto anche a babbo natale